Il Paragò era stato un giocatore già vicino a noi quest'estate, poi per vari motivi non siamo riusciti a fare questo matrimonio, quest'anno in accordo con il Presidente abbiamo deciso di fare questa operazione, diciamo che è stata abbastanza veloce, in tre giorni ne abbiamo chiusa e siamo ben lieti che lui sia qui, è un giocatore che personalmente conosco molto bene, ho visto molte volte giocare, è vero che ho letto che di più parte si dice che si vuole ringiovanire, ma non è un discorso solo di ringiovanire l'organico del Cagliari, è partito un giocatore importante per noi come Munari, un giocatore importante per lo spogliatoio, ma Faragò non è che arriva perché è più giovane, Faragò arriva perché è un giocatore che noi riteniamo importante per quello che è il Cagliari attuale e per quello del Cagliari del futuro, quindi è normale che la sua età è importante perché vuol dire che è un percorso, può avere un percorso importante per il futuro mercato, è altro dire, su di lui non è che posso aggiungere altro, spero che mantenga quello che abbiamo in testa noi come società, essere il campo, è normale che il salto dalla categoria c'è, però sono convinto che sarà un ragazzo che farà molto bene. È una bella emozione per me essere qui, già quest'estate ho un po' assaporato l'idea di poter venire qui, quindi in questi sei mesi ho maturato ancora di più quest'idea e essere qui adesso per me è davvero un'emozione grande, ancora non riesco a realizzare tanto ma devo fare in fretta perché domenica c'è già la partita. Mi aveva dispiaciuto tanto non arrivare a Cagliari quest'estate, però allo stesso tempo sapevo che l'unica cosa che c'era da fare era continuare a lavorare perché il calcio cambia sempre tanto, quindi dimostrare quello che avevo fatto l'anno scorso anche in questi sei mesi era un obbligo per me, sono riuscito a farlo e infatti la società ha puntato su di me e ho saputo dell'interesse domenica mi sembra e poi la trattativa è stata davvero molto molto breve, quindi vuol dire che la società ha puntato, puntava forte su di me e quindi è una cosa che mi fa ancora più piacere. Quando ho saputo che c'era il Cagliari che voleva portarmi in Sardegna ho declinato qualsiasi altro tipo di trattativa, non aveva senso. Non so come sia la Serie A ma sono davvero pronto e volenteroso di mettermi in gioco e di capire subito come funzioni. Tanti mi dicono che il salto sia davvero grande ma mi sento davvero pronto a farlo e questo non mi preoccupa. Fino a quattro giorni fa stavo preparando la partita contro il Trapani, preparare contro la Roma forse è meglio. Sì, pure non è mai stato a Roma, all'Olimpico, non a Roma. All'Olimpico, a Roma è stato stato. Il calcio credo che bisogna essere completi e io cerco di esserlo il più possibile. Lavoro tutti i giorni per migliorarmi, per migliorare entrambe le fasi. La corsa, la quantità e il volume sono una delle mie prerogative quando scendo in campo perché assolutamente so che la squadra ha bisogno del mio supporto anche perché gioco in una zona nevralgica del campo. L'anno scorso assolutamente penso che il Cagliari fosse la squadra più forte del campionato, infatti anche se l'ultima giornata il campionato è stato vinto e quest'anno ha cambiato qualche giocatore ma comunque l'ossatura della squadra che ha vinto il campionato scorso è rimasta. Questo secondo me è stato importante anche per non trovare tante frizioni all'interno dello spogliatoio, anche se da come ho notato stamattina il gruppo è davvero fantastico. Mi hanno accolto davvero bene anche se ho fatto solo un allenamento, mi sono trovato quasi a casa. Quindi penso che sia una squadra che possa ancora migliorare tanto perché ha tanto potenziale tecnico, fisico, anche caratteriale perché ha tanti giocatori di esperienza quindi si può sempre migliorare. Cambiano i metodi di allenamento, cambiano solo gli avversari quindi bisogna proiettarsi in un'altra ottica e pensare che la squadra che si affronterà appunto sarà la Roma e per il resto non cambia assolutamente niente, anzi forse è più semplice perché i giocatori della Roma li ho visti giocare tante volte quindi è più facile. Sicuramente me in golani è un giocatore fortissimo che come ho detto prima è un centrocampista moderno che fa entrambe le fasi, si trova spesso in zona gol quindi è un giocatore sicuramente da prendere ad esempio. Penso sia più difficile fare il viaggio al circolo polare artico. Esordire in Serie A è difficilissimo, in pochi ci riescono, io spero di riuscirci al più presto e quindi ad oggi forse è più difficile esordire in Serie A perché ancora non ci sono riuscito però ci riuscirò presto. A Novara ho lasciato la mia famiglia perché da quando avevo 9 anni fino adesso che ne avevo 23 io sono stato lì quindi ho lasciato un ambiente che mi voleva bene e questo voler bene era ricambiato ovviamente da me però non è un rimpianto il mio, anzi assolutamente è una carica, una voglia e sono davvero felicissimo di essere qui perché so che troverò la mia nuova famiglia e sarà più bello di prima. L'anno scorso abbiamo giocato 4-4-2 quindi ho fatto l'esterno a destra, a volte ho fatto il quinto quando ci mettevamo 3-5-2 per difendere il risultato quindi cerco di adattarmi in più ruoli possibili e ovviamente la mezzale è quello che ho fatto più spesso. Speranza, noi stiamo lavorando su, è normale che il Cagliari non è una realtà normale, è una realtà importante ormai del calcio italiano quindi i numeri devono essere accettati anche da noi, non è che possono essere buttati lì e così, quindi noi dobbiamo avere dei numeri che dobbiamo accettare. Se accettavamo i numeri che dicevano all'Inter magari Mian Guerra già qua, quindi ci vuole qualche giorno, secondo me può godersi che si faccia come può godersi che non si fa. Bisoli è un giocatore che interessa, potrebbe interessare al Cagliari, non c'è la volontà di cederlo in questo momento da parte del Brescia, giustamente ognuno a casa sua ha l'intero opportuno di fare quello che crede. Il Brescia ha un campionato davanti, ha giocato via Morosini, ha ancora timore di classifica, quindi vedremo quello da qui a giugno, poi può succedere mille cose. Però è giocatore che noi stiamo seguendo con un grande interesse. Questo non lo so, vediamo. Io guardo al presente, guardo la fine di questo campionato, poi per il prossimo vediamo. Io dico sempre una cosa, il mercato ha un'evoluzione strana, cioè lascia stare la mia provenienza dove il mercato era una priorità assoluta a fare le rivoluzioni. A Cagliari non si fanno le rivoluzioni, c'è una metodologia aziendale imposta dal nostro presidente con una logica ben precisa, è andato via Munari e è arrivato a Faragò, che era il primo obiettivo che avevamo. È andato via abitante e vogliamo prendere un ragazzo che sostituisca abitante ma che abbia una specificità nel ruolo che potrebbe essere mio o un altro. Poi quello che può succedere in questo momento, può succedere mille cose, possono essere richiesti un giocatore che riteniamo opportuno che vada e può arrivare qualcun altro. Questo non lo so, mancano ancora 15 giorni e come sempre tutto può accadere. Può darsi che ritorni a casa con molta probabilità settimana prossima dei Yola. Grazie. 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 Grazie.